Presidente Galvani, ti presento Loris Rispuri, il presidente del MoVe Prince sul Comitato Centro Parale. Volevamo consegnarti questo omaggio affinché tu possa essere il nostro povero Mandela, perché di volo da 25 anni chiede verità e più scusa. Io sono Don Ororato e felice di darti questa maglia che è il Macro Sim, la richiesta di verità e giustizia che accompagna questo tour sulla sicurezza del lavoro. Credo che sia il momento più forte chiedere giustizia e ricordare le vittime dell'ora. Stiamo aspettando la commissione di richiesta, sta lavorando la commissione di richiesta del Senato, a breve ci sarà il primo step. Credo che finalmente potremo sapere veramente che è successo con la nostra. Andiamo!